Prendete pure questo bretto. Che è? Eh, preparate dalle cose brutte. Tu te lo prendi, ci metti dentro sto vetto che ti ha dato nonna, poi te lo metti nella stanza andò dormite te e tu ragazzo, e questo si tiene tutte le cose brutte. No dai, mi fanno paura queste cose. Ma no, ma tu ti sta tranquilla perché è una cosa naturale, è una cosa normale. Anche perché io non te vedo, Serena. Però io quello che voglio è che tu stai tranquilla, hai capito? Quindi tu adesso prendete sta pezza, te lo porti nella stanza andò dormite e me lo riporti tra qualche giorno, vediamo come vanno le cose. Dai bretto, ti prego, fallo per tu nonna. Cioè quindi decido mettere l'uovo dentro? Sì, ci metti l'uovo dentro, ci dormite qualche giorno e me lo riporti, e vediamo come vanno le cose. Ehm, sai che è? Per vedere se qualcuno ti vuole male, se qualcuno è invidioso, se qualcuno ti ha attaccato, qualcosa ti è brutto. Ma sta tranquilla bretto, non c'è niente di pericoloso. Capito? Fallo per tu nonna eh. Ok. Ok. Bre, lo vedi? È tutto naturale, non c'è nulla di strano. Lo vedi bretto? Ehm, perché non c'è sta sangue. Se non c'è sta sangue vuol dire che chi te l'ha fatto non è per morte, ma solo per fatte tribolà perché te vuole male. Ma è tutto naturale, hai capito bretto? Tutto si sistema. Grazie.